Oggi raccontiamo la vita di un uomo e soprattutto la sua lotta con una montagna, il terribile Serrotor. Cesare Maestri ha fatto di questa montagna il momento della sua gloria, il momento della sua dannazione, la sua ossessione e la sua malattia. Una impresa epica per veri uomini dove l'eroismo e la morte camminano a braccetto. Grazie.